Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono 3 km di coda tra Calenzano e la variante di Valico per un incidente e per incidente e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Fino alle 18 è chiuso il tratto in direzione Bologna tra il Bivio per la variante di Valico e Aglio, uscita consigliata provenendo da Firenze e Badia sulla variante di Valico. Sulla FIPILI in direzione Firenze code per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna, lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!